Ecco, curare e guarire. Stavolta abbiamo voluto dare questo titolo alla nostra rubrica settimanale che potrebbe essere messo anche in alternativa. Curare o guarire, curare e guarire. Direte dove volete parare stavolta. Ho invitato un personaggio, Don Michelangelo Finazzi, oggi a colloquiare un po' qui con voi, il quale è parroco di Fiobbio e quindi qualcuno ricorderà è il paese della beata Pierina Morosini, ma è anche responsabile diocesano della pastorale della salute e questo credo che lo qualifichi proprio per fare una conversazione tra di noi su questo aspetto. Voi mi direte appunto curare e guarire, uno pensa il Don Michelangelo che è l'auditur o che è il guaritore. No, non è né un dottore né un guaritore, è un prete. È un prete però che appunto è attento e segue questo aspetto della vita che tante volte diventa pesante, diventa anche drammatico. Don Michelangelo, il fatto di parlare, perché poi la nostra è una rubrica a sfondo religioso, di cura e di guarigione, quindi in fondo di malattie e di palati, credo che possa riportarci al fatto che non abbiamo inventato noi questa attenzione ai malati, ma probabilmente la faccenda va radicata e molto indietro ci riporta addirittura al Vangelo di Gesù, quindi è giusto magari qualificare la cosa già in partenza. Certamente, se leggiamo il Vangelo troviamo quasi in ogni pagina un episodio di guarigione e quando Gesù manda gli Apostoli dice due cose sostanzialmente, non so se noi avremmo avuto le stesse priorità. Annunciate il Vangelo, curate i malati. E quindi questo diventa significativo di come anche chi è discepolo di Gesù metta al centro dell'attenzione il malato, la cura, che non necessariamente è sempre guarigione. Guarire, senz'altro, è un obiettivo importante della medicina e non solo della medicina. Però sempre è possibile curare, non sempre guarire, ma curare sempre. Ecco perché davvero fino all'ultimo respiro di una persona è sempre possibile, anche là dove la guarigione non è più un obiettivo possibile, stare accanto, essere prossimi, generare del bene. Ecco, in questo senso qui credo che la Chiesa, fin dai suoi inizi, ma poi nel corso dei tempi, ha preso in consegna questo fatto. Poi ne parliamo un attimo cosa è accaduto e cosa accade anche nelle nostre stesse parrocchie, nei nostri stessi paesi. Però Don Michelangelo, io credo che è giusto, e tante volte forse ci si dimentica un po', che la Chiesa, attraverso anche istituti religiosi addirittura, attraverso strutture apposite, nel corso dei tempi si è preso cura dei malati, ma in tanti aspetti e nelle varianti più diverse, che credo veramente la dica bene sul fatto che, nonostante tutti i limiti, la Chiesa, questo comandamento e questa consegna di Gesù, l'ha presa veramente e l'ha messa in atto. Sì, un po' come Maria che è immagine della Chiesa, si dice stava presso la croce, stava presso la croce del Figlio Gesù, ma la Chiesa, di cui Maria è l'immagine, vuole essere vicina ad ogni croce, ad ogni crocifisso, a 360 gradi, dalle povertà, alle malattie, là dove c'è una sofferenza, dove c'è un dolore, dove c'è un bisogno, i discepoli di Cristo vogliono esserci, essere segno della sua presenza, e qui c'è una reciprocità, il malato è presenza di Gesù in mezzo agli altri, infatti lui dice l'avrete fatto a me quando mi avete curato, mi avete dato da mangiare, siete venuti a trovarmi, l'avete fatto a me, quindi chi cura sa che nella persona malata, nella persona sofferente è presente il Signore, nello stesso tempo anche chi cura diventa un segno della provvidenza, della misericordia di Dio, che non ti abbandona soprattutto nell'ora del dolore. Poi certo, l'azione della Chiesa in questi termini si manifesta a volte in opere dirette, pensiamo alle nostre cliniche di ispirazione cristiana, le case di riposo, nate proprio dalle comunità parrocchiali solitamente, poi evolute in tante forme, ma nate da questo bisogno, da questo desiderio di bene, ma poi pensiamo anche a tutto il mondo dell'assistenza spirituale, che in qualunque opera sanitaria o socio-sanitaria è una parte integrante e fortissima del processo di cura. Possiamo ricordare qualcuno di questi istituti religiosi che hanno proprio come carisma, diciamo, si usa dire così, proprio l'attenzione, la cura, l'assistenza al malato e che stanno operando, direi, ancora oggi con competenza secondo le necessità dei tempi. Credo che sia bello un pochettino ricordare che tante persone anche oggi fanno parte di questi istituti religiosi e quindi giovani, sia ragazzi che ragazze, che si dedicano e intendono dedicarsi, ma con spirito cristiano, proprio a questa cura. Sì, nella nostra città abbiamo due esempi così emblematici, dati anche da, partiti da due fondatori che sono stati canonizzati insieme, tra l'altro il 15 maggio scorso, madre Francesca Rubatto, San Luigi Maria Palazzolo e quindi la clinica San Francesco, la clinica Palazzolo, come due esempi di questa cura verso il malato, ma che poi si apre a tante dimensioni, all'anziano, la persona disabile e il coinvolgimento non solo delle suore fondate da questi due santi, ma anche poi di una fraternità laicale, di tanti operatori sanitari, di tante persone che ne seguono il carisma oggi, in termini nuovi sicuramente, evoluti rispetto ai tempi del XIX secolo in cui queste opere sono partite, ma sempre con la freschezza del carisma che sa attualizzarsi nei bisogni dell'oggi e con le metodologie di oggi. Tra l'altro a livello anche più grande, intorno anche per il mondo, penso che tanti hanno sentito parlare dei Fatebene Fratelli, dei Camigliani e così via. Don Orione che è presente nella nostra diocesi, nella nostra città, con un suo istituto, ma potremmo citarne tantissimi altri, anche legati alla casa di riposo. Insisterei anche sul fatto che non solo questi grandi istituti, ma anche proprio il tessuto delle nostre comunità parrocchiali ha saputo generare delle attenzioni squisite. Tra l'altro con un bellissimo rapporto tra comunità parrocchiale e per esempio casa di riposo, che non è un fortino chiuso, che si dedica meritoriamente alla cura, ma c'è questa apertura, questo scambio, questa reciprocità, che tra l'altro fa sentire l'anziano ancora dentro una comunità ad ampio raggio. Certamente la comunità della casa di riposo, che è un po' una comunità di vita, una grande famiglia, ma che si allarga poi al paese, alla comunità, alla zona e quindi a tanti scambi che passano per il volontariato, per le visite che fanno le parrocchie, per iniziative di ogni genere. Certo, qui viene in mente un pochettino e a volte ci sono in giro delle antiche fotografie che presentano il sacerdote in cotta e stola e addirittura con l'ombrellino portato dal chierichetto, il quale si reca nelle case per l'unzione dei malati, una volta poi era l'estrema unzione anche per portare l'eucarestia in effetti. Ecco, direi che anche qui dobbiamo pensare, come tutti i nostri paesi erano ricchi di questa presenza intanto del sacerdote, però direi appunto c'è stata anche lì un'evoluzione che forse va ad ammirare quello che è stato un po' fatto nei tempi, ma quello che forse oggi si è allargato coinvolgendo appunto anche altre persone di una comunità, di un paese. Ma sicuramente l'assistenza spirituale al malato oggi si è evoluta moltissimo. Anzitutto, come diceva, accanto al sacerdote, il cappellano, ci sono altri sacerdoti che collaborano con lui, religiosi, religiose e anche dei laici, ministri straordinari della comunione, che formano una cappellania, che quindi sa usufruire di diverse potenzialità e diverse sensibilità. Non è solo il discorso che ci sono pochi preti, allora è necessario avere delle collaborazioni maggiori di religiosi e di laici. L'apporto che sa dare un laico, che sa dare un frate, una suora, una donna accanto al malato, va a completare quello che può dare il sacerdote. E non è solo questione appunto di una pluralità di sensibilità, di potenzialità, che si mettono a servizio del malato, ma è anche un tipo di servizio che è cambiato. Insomma, il vado a fare le comunioni in ospedale evidentemente non può più essere il paradigma di un'assistenza spirituale, che invece parte da una presenza, dall'ascolto, il dialogo con ciascun ammalato, l'aprire alcune questioni, eventualmente il sacramento, la comunione o addirittura l'unzione dei malati, diventa un punto di arrivo di un processo. E non è giusto apposto, non è che prima passa il medico, l'infermiere e poi arriva il prete a fare le sue cose. No, la concezione oggi sicuramente è cambiata. L'assistenza spirituale fa parte del processo di cura. Tanto il medico, quanto la cappellania, quanto l'infermiere, quanto il volontario, quanto lo psicologo, tutte queste figure insieme portano avanti il processo di cura. Non è la Chiesa che viene a fare le sue cose o a far proselitismo, ma è una cappellania che partecipa al processo di cura, soprattutto nel dialogo con il malato. Ecco, qui sarebbe interessante un po' chiedere a te, che sei ovviamente capace di leggere la cosa un pochettino dalla tua angolatura di responsabile della pastorale di Ocesana. Cioè un discorso di questo genere qui sta camminando, è maturato, direi intanto nella consapevolezza stessa dei sacerdoti, dei laici, delle suore che formano questa cappellania di presenza per l'assistenza spirituale, diremmo, ma anche poi nella concezione stessa della vita di un ospedale, di una clinica, di una casa di riposo, anche là dove non c'è necessariamente il titolo religioso, ma nella sana laicità dello Stato, ecco, entra questo discorso di una maggior compiutezza di cura, oppure resta ancora un pochettino quella parcializzazione degli interventi? Beh, sta maturando pian piano questa consapevolezza. Si è passati da una concezione della medicina come scienza, quasi contrapposta all'assistenza religiosa come qualcosa di non scientifico e non... Si è passati un po' a una giusta posizione quando abbiamo finito noi di curare il malato, bene, non c'è più niente da fare, chiamiamo il prete e fa l'altro pezzo, e quindi un accostamento, una giusta posizione. Adesso si parla di integrazione, di collaborazione, di cammino condiviso. Ci si informa, si collabora, ci si chiama, si collabora insieme attorno alla persona che ha tutti questi aspetti, da quello biologico, a quello psicologico, a quello religioso e pian piano ci sono sempre più figure che vanno a formarsi per avere la competenza necessaria oltre alla buona volontà e a un cammino di fede personale per stare accanto al malato in modo efficace, in modo opportuno. Certo che allora qui curare la malattia, curare il malato, probabilmente è entrata una sensibilità diversa, io credo, nei medici innanzitutto, ecco dove non si guarda semplicemente o si intrappola attorno al problema diagnostico curativo della malattia, ma al centro praticamente il malato e penso in questo discorso di cappellania e di collaborazione anche coloro che girano attorno al malato. Il tema dei familiari, per esempio, credo che non sia secondario, oggi nella vita anche di una gestione ospedaliera. Nel periodo del Covid c'è stata una penalizzazione notevole dell'ingresso dei parenti accanto agli ammalati quindi in quel momento è venuto un po' meno quel discorso di assistenza che si può fare anche al familiare che è altrettanto necessario, ma quasi è stata una supplenza. Nel momento in cui i parenti non potevano entrare, gli assistenti spirituali ci hanno rimandato un bisogno triplicato del dialogo con loro, proprio perché c'era molta più solitudine, molto più bisogno di sfogarsi, di avere qualcuno accanto. Nella normalità, quando, e speriamo presto davvero di dimenticarci di tutta questa brutta esperienza, dentro la nuova realtà, quindi ritornando alla normalità, è chiaro che l'assistenza spirituale deve farsi carico anche della famiglia. E qui torniamo all'ispirazione evangelica che dicevamo all'inizio. Gesù quando curava una persona certamente andava a guarire, a sollevare quell'infermità che lo teneva prigioniero, però immediatamente diceva ti sono rimessi i tuoi peccati, come a dire non ti basta la salute fisica, biologica, occorre anche una salute interiore, una salvezza dell'anima, ti occorre una salvezza più globale e poi lo inseriva nella comunità, mettetelo nel mezzo, portatelo qui. E poi cercava di includere anche tutti gli altri e la comunità intera. Sono tutti questi approcci che Gesù nel Vangelo ci dimostra che diventano poi l'obiettivo di un processo di cura che sia integrato e completo, non diviso a compartimenti stagni. Viene in mente del Vangelo con l'espressione detta ai familiari datele da mangiare, dopo che Gesù ha guarito si preoccupa e coinvolge appunto, come a dire anche i familiari, ha tirato su il fiato finalmente perché la guarigione è avvenuta, adesso datevi da fare perché il contesto si ricomponga. E questo mi riporta un attimo anche al fatto dell'assistenza e della cura in casa, perché in fondo ecco il pensiero dei nostri paesi, delle nostre comunità, dove appunto il sacerdote, il parroco, eccetera, passa per la visita e così via, anche qui probabilmente coinvolgendo in modo diverso e rinnovato anche altre figure. Però direi la presenza del malato nelle case. E' chiaro che porta fatica, porta a volte dramma, però forse va anche un po' questo aiutato ad essere vissuto in un certo modo. Sicuramente è necessaria una nostra presenza, la difficoltà più grande che la comunità trova è a entrare nelle case in una mentalità piuttosto individualista e dell'appartamento, che appunto la parola stessa dice un appartarsi in una privacy che è difficilmente superabile. E quindi il compito della comunità diventa anche proprio quello di mettere delle antenne per capire là dove c'è un bisogno. E' capitato ancora che dicessero, immagino sia capitato anche a lei, sono stato ammalato tanti mesi e il parroco non è venuto a trovarmi, ma l'hai detto al parroco? No. L'hai fatto dire a qualcuno? No. Ebbè, la sfera di cristallo non c'è. Poi per carità qualche volta possiamo diventare negligenti anche noi, ci mancherebbe altro, poi gli impegni sono tanti. Appunto, qua si inserisce, primo, l'importanza di far sapere questa cosa, senza timore di disturbare. E secondo, evidentemente il parroco non può arrivare dappertutto, che ci siano persone, figure, che possono dedicarsi a questo tipo di servizio e tenere l'aggancio tra la comunità cristiana e gli ammalati. È molto bello quando si va a trovare un anziano e gli si dice, guarda, oggi inizia il CRE, una preghiera per tutti questi ragazzi, sai cosa si sta facendo? Poi si va in parrocchia e si dice, facciamo una preghiera per quegli ammalati che oggi abbiamo raggiunto, e han chiesto proprio una preghiera, c'è qualcuno che ha molto bisogno. Tenere aperto questo canale è vitale per il malato, per la famiglia che non si sente sola, in quella che a volte è un'esperienza, è un impegno titanico perché veramente mette fortemente alla prova, ma anche la comunità viene coinvolta e ossigenata nel pensiero che ci sono anche queste presenze e tra l'altro c'è sempre anche qualcosa da imparare e da portare via davvero in termini di saggezza, di pazienza, di testimonianza, di fede da parte di queste persone. E questo direi è un'esperienza interessante, quella di affidare anche ai palati un motivo per portare insieme con Cristo in croce la propria sofferenza, cioè dare proprio dei perché, la preghiera per la comunità, per il missionario, per quella tal situazione e così via. Allora uno si sente veramente non ormai all'angolo della vita e della vita comunitaria, ma ben coinvolto. E questo cambia veramente intanto la lettura stessa del vivere la malattia, ma anche il fatto di sentirsi al tonno. E qui è un accenno. È un discorso un po' delicato, però con qualche persona si può davvero arrivare quasi a dire, è una provocazione, non sprecare la sofferenza di questa giornata, dedicala a qualcuno, offrila per qualcosa. Dio non ti spiega il dolore e non vuole il dolore, ma là dove c'è questa situazione di dolore non solo ti regala la consolazione e la forza di affrontarlo, ma la possibilità di trasformare quel dolore in amore, quel dolore in offerta per qualcuno, quel dolore in benedizione per altri. Certo, siamo a un livello molto alto, non lo possiamo imporre e mettere in faccia a chiunque che magari dice, sì, vabbè, fallo tu, perché insomma, prova tu a metterti nei miei panni e poi è chiaro che è un discorso molto delicato, però è una possibilità grandiosa che ci viene data di trasformare il dolore in amore e qualche volta dobbiamo avere un po' più coraggio anche nel proporre questo e lo dico dall'esperienza di persone che quando sono state invitate a questo sono riuscite poi a fare di questo loro dolore anche un'occasione di offerta di amore per altri. E qui entra dentro direi anche l'aiuto che viene dai sacramenti, dall'eucarestia, dall'unzione dei malati. Adesso purtroppo il tempo ci sta già scappando per cui una battuta su questa unzione dei malati che tante volte, forse più i familiari fanno difficoltà ad accogliere che i malati stessi. Sì, forse c'è un rimasuglio di quella estrema unzione che spaventava o un immaginario del prete che arriva e dice ai minuti contati. E' chiaro che anche i ministri del sacramento dell'unzione hanno la delicatezza e la modalità migliore per entrare ma che bello pensare che nel momento del dolore tu senta la carezza di Dio che ti raggiunge, ti dà la sua forza, ti dà la sua consolazione. Qualche volta è il malato stesso che lo desidera ma non osa dirlo. E noi lo condanniamo tutto sommato a una solitudine per cui non si può parlare del momento che sta vivendo e del dramma che sta vivendo. Non si può dare questo sostegno, questa forza per quel pudore per cui non si può dire niente ma alla fine non è un reale aiuto al malato ma è un isolarlo nel suo dolore e non dargli quegli strumenti che lui stesso desidererebbe ma che non osa chiedere. Qualche volta per salvaguardare davvero il parente e non spaventarlo. È il malato che non vuol spaventare il parente più che il contrario. Andando a chiudere ci abbiamo un minuto. Tu ti occupi appunto in diocesi di queste cappellanie degli ospedali, di realtà appunto di pastorale, corsi di preparazione anche come quello che si sta svolgendo e così via. Mi veniva semplicemente una battuta finale. Pastorale della salute. Ma come? Tu parli di malati, parli di ospedali, parli di cliniche, parli di case di riposo e poi metti come titolo fuori dalla tua porta del tuo ufficio pastorale della salute. Com'è sta storia? È evidente che non siamo dei doloristi che ricercano la malattia, il male, la sofferenza magari esaltandola in qualche forma che qualche volta nel passato ha un po' prevalso. L'obiettivo è la salute, magari la guarigione, senz'altro il bene, il benessere, la serenità, la salvezza della persona che passa attraverso tutte queste forme di cura. Ma è evidente che vuole essere un apporto positivo e non depressivo o addirittura di paura, di spavento per le persone. Andiamo a chiudere. Grazie a una presenza preziosa. Magari chissà che abbiamo qualche altra occasione. Don Michelangelo catturato per la nostra Antenna 2, per la nostra rubrica Male Noviscum. Possiamo riprendere qualche tema di questo genere o similare intanto. Don Michelangelo, parroco di Fiobbio, paese della beata Pierina Morosini, responsabile diocesano dell'ufficio pastorale appunto della salute. Lo ringrazio veramente dalla sua disponibilità, di queste perle di saggezza che ci ha messo davanti e alla nostra riflessione. E come sempre chiudendo l'augurio anche per voi che ci avete seguito insieme con il grazie, l'augurio di una buona domenica. Grazie. Grazie. Grazie.